Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti e benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Daniele. Siamo tutti nel panico. Cosa sta succedendo a Roblox? Siamo tutti sotto shock, non sappiamo se è un attacco hacker, non sappiamo se è un aggiornamento, non sappiamo nulla. Certo è che oggi indagheremo insieme. Ma prima di cominciare ti invito a mettere mi piace per supportare il mio video, iscriviti al mio canale e attiva la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato non appena pubblicherò un video. Ragazzi, come vedete qui dalla mia schermata, Roblox grossi problemi nelle ultime ore, server in down persi 3 milioni di utenti. Ragazzi, questa cosa è un po' inquietante perché nemmeno a cavallo del mio ultimo video che feci dove parlavo di Roblox e la mia creepypasta diceva che degli hacker il 31 dicembre avrebbero assalito Brokeven. Io non so se questo può essere vero perché sono voci di corridoio, online, creepypasta, quindi sono storie diciamo inventate, ma c'è qualcosa di veramente particolare e misterioso. Io vi chiedo scusa se quest'oggi non editerò il video, non metterò musica e niente, ma ci tenevo a parlare con voi per vedere cosa sta succedendo a Roblox. Voi sapete ormai da diverso tempo che io indago sui misteri di Roblox. Su Roblox Brokeven il mio personaggio è un detective e cerco di indagare su tutti i fatti più misteriosi che accadono nella piattaforma. Ma una cosa simile non è mai successa, cioè a me mi ha lasciato davvero senza parole. Andiamo a vedere altre notizie inerenti a Roblox. Ecco ragazzi, nuovi articoli, non funziona Roblox, vedete dal 29 ottobre, proprio appena io ho pubblicato il mio ultimo video, cioè Roblox improvvisamente è andato in down. Cosa sta succedendo realmente in questa piattaforma? Cosa noi non sappiamo? Ragazzi, penso che questo rimarrà un mistero. A mio parere non è un caso che uno dei giochi più famosi al mondo stia ricevendo uno di questi problemi. Altri giochi come Fortnite hanno avuto spesso problemi, ma erano problemi inerenti più al numero di giocatori attivi sulla piattaforma. Invece questa volta Roblox ci tiene sospesi. Non sappiamo cosa sta succedendo. Sicuramente sarà una cosa che verrà risolta, ma in molti dicono che Roblox possa chiudere per sempre. Io non ci credo, anzi, secondo me è una questione di ore e tutto si risolverà. Però ragazzi, è un caso. Come voi avete notato negli ultimi tempi, tantissime figure misteriose sono entrate su Roblox. O sotto forma di creepypasta, o sotto forma di racconti, o sotto forma di personaggi. Ma questa volta cosa sta succedendo su Roblox? Cosa effettivamente è accaduto dal 29 ottobre ad oggi? In tantissimi youtuber creatori di contenuti da tutto il mondo stanno impazzendo, perché noi che vi portiamo a voi fan dei contenuti è molto importante crearli e vedere le novità che ci sono su Roblox. Guarda caso proprio il 31 ottobre, ovvero la festa di Halloween. Questa cosa mi lascia un po' perplesso ed è veramente, veramente inquietante. Pare che la situazione si risolverà al più presto, come possiamo vedere da qui dal 29 ottobre non funziona. Roblox. C'è qualcosa di strano? Sta succedendo qualcosa? Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate voi? Scrivetemi nei commenti secondo voi cosa ipotizzate? Cosa può essere successo? Se è solo un aggiornamento? Scrivetelo nei commenti perché sinceramente leggere in giro che Roblox stia per chiudere i battenti mi sembra strano. Non ci posso credere, non succederà mai. È impossibile, anche perché Roblox è uno dei giochi più famosi e bellissimi al mondo. Quindi chi è d'accordo con me, metta mi piace e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Però ci tenevo tantissimo a fare questo video per aggiornarvi. Io vi terrò aggiornati su tutto quello che succederà e non è detto che non indagherò su qualche mistero che c'è dietro Roblox e il suo down. Ragazzi, grazie mille, scusatemi di questo video veloce e non editato, però volevo aggiornarvi su quello che sta succedendo. State tranquilli che secondo me è questione di ore e tornerà tutto normale. Ricordatevi che io sono Daniele. Se ti piacciono i miei video, seguimi.